Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. In FIPILI verso Firenze rallentamenti per veicolo fermo tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. In A11 verso Firenze rallentamenti per lavori tra Montecatini e Pistoia. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova in uscita provenendo da Genova. Per un incidente è chiuso l'allacciamento tra la 12 e la Firenze Livorno provenendo da Genova. In A11 stanotte dalle 21.30 alle 6 è chiusa l'entrata di Chesino Zanese in direzione Firenze. La statale 3B Stiberina è temporaneamente chiusa in direzione Ravenna tra gli svincoli di Pieve Santo Stefano Sud e Pieve Santo Stefano Nord. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!